Buonasera al nostro ospite di questa sera, che è un giovane ricercatore, si chiama Gabriele Maestri e ha pubblicato per la saggistica di Aracne per un pugno di simboli. Perché ha votato il 43% dei cittadini. La sento, Bendicenti, la sento. Anch'io sento lei, adesso per un attimo ho anche sentito la voce, se non ho inteso male, era quella di Massimo D'Alema, probabilmente durante il dibattito che si sta tenendo in questo momento a Fano sull'Europa e sua poetica estera, cui partecipa anche il ministro Mogherini, moderato al direttore di Rai News 24, Monica Maggioni. Torniamo a lei, Maestri, per un pugno di simboli. Storie mattane di una democrazia andata a male, la prefazione di Filippo Ceccarelli, lei indaga sui simboli, sulla storia, sull'evoluzione dei simboli dei partiti politici di questo paese. e torno fra poco da lei, torniamo però anche subito all'altra, all'attualità politica. Quindi ripartiamo questa volta dal Movimento 5 Stelle, dalla notizia del fatto che ci sarà un gruppo comune a Strasburgo con gli UKIP, quindi con gli indipendentisti inglesi, e giudica questa cosa, Grillo, un grande esempio di democrazia diretta. Un minuto a Gabriele Martelloni. Sì, di nuovo buonasera. Donato a sette delegazioni nazionali, 48 membri, nasce a Bruxelles il gruppo euroscettico di cui fa parte sia il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, sia l'UKIP di Nigel Farage. È una grande vittoria per la democrazia diretta, dice Grillo. Ora entreremo nelle commissioni e faremo sentire con fermezza nelle istituzioni la voce dei cittadini, senza intermediazioni. Grillo lancia anche l'hashtag siamo dentro per celebrare proprio questo giorno. Ricordiamo che l'alleanza con Farage aveva creato mal di pancia nel Movimento 5 Stelle, era stata decisa dalla rete, 23 mila voti su 30 mila votanti, e poi era partita l'apertura al PD da parte del Movimento 5 Stelle per le riforme, in particolare la riforma elettorale con la presentazione del Democratellum. Altro hashtag lanciato da Grillo, oggi Unità stai serena, qui il leader del Movimento 5 Stelle si riferisce alla vicenda del quotidiano e l'unità in liquidazione. Grillo dice, chiudono i giornali in Italia, un'ottima notizia, meno giornali significa più informazione. Chiaramente attacchi da tutte le parti politiche su questa dichiarazione di Grillo. Se non ci sono domande, Donato, a te la linea. Grazie, Gabriele Martelloni. Allora, maestri, leggo alcuni dei titoli sui capelli, di falci, martelli e altre scissioni, quindi molti traslochi dal PC fino al Partito Democratico, bruciarsi con la fiamma, anche lì riferimento ovviamente dal Movimento Sociale, di Almirante, poi di Rauti fino all'Alleanza Nazionale, e poi le rose e i garofani, quante ce ne sono state dal Partito Socialista e poi le varie evoluzioni. Allora, cosa tiene insieme, diciamo così, questa continuità nel cercare appunto l'identificazione con un simbolo? È una bella domanda. Una volta era tenuto insieme da qualcosa, nel senso che in un simbolo ci si riconosceva, al punto che effettivamente nei contrassegni, così li chiama la legge, c'era un'immagine ben identificabile, quel falce e martello piuttosto che fiamma o fiori che ha citato lei. Il problema è che oggi è molto difficile tenere insieme qualcosa, immaginare un filo, perché un simbolo praticamente non c'è più, siamo di fronte quasi sempre a dei marchi, non molto diversi da quelli che troviamo sugli scaffali di un supermercato che normalmente frequentiamo, fatti di colori nazionali che dicono piuttosto poco, se non il fatto che siamo italiani, ma forse è un po' pochino per dei partiti che si candidano a governare o perlomeno a contribuire al governo. Allora, torno ancora da lei però su una curiosità che lei tratta nel suo libro, che poi è stata anche evidenziata negli anni scorsi, non a caso la prefazione di questo suo saggio di Filippo Ceccarelli, che è un grande archivista delle cose politiche italiane. Ecco, la frequentazione con il mondo vegetale, anche con quello animale nella ricerca dei simboli. Guardi, posto che Filippo è stato molto gentile a fare la prefazione, è stato un inseguimento che lui ha accettato alla fine, ma è qualcosa che ai limiti, direbbe il mio amico e collega di Termometro Politico, di cui sono caporedattore Livio Ricciardelli, è un deposito di cialtroneria, lo dice lui, lo dice Filippo, perché di fatto si è cercato quasi ogni declinazione botanica e quasi ogni declinazione animale. Quelli che vedo che stanno scorrendo sono alcuni dei simboli, vedo che è stata fatta una bella carrellata, e non sono nemmeno tutti. Diciamo che si è cercato di esplorare qualunque classificazione lineana possibile, con qualche frequentazione particolare, perché di animali chiaramente tutti ricordiamo l'asinello piuttosto che l'elefantino, ma poi ce ne sono stati tanti altri, dall'orsetto che sembrava un peluche o più o meno minaccioso, a gabbiani che ancora adesso ci sono, a vegetali che in buona parte si sono appassiti e molti animali di fatto si sono estinti. Grazie a Gabriele Maestri.